Si terrà a Cagli dal 31 maggio al 2 giugno Distinti Salumi, la manifestazione dedicata all'artigianato Norcino di Qualità. L'iniziativa è stata presentata in Regione nei giorni scorsi dall'assessore Maura Malaspina. Per me è un vero piacere come assessore all'agricoltura della Regione Marche presentare il settimo compleanno di un evento molto importante per la nostra Regione. Un evento che da anni è ambasciatore della cultura enogastronomica della Regione Marche in Italia e all'estero. Distinti Salumi infatti ha il pregio di dimostrare quanto sia importante fare cultura attorno al cibo, un settore che nelle Marche ha radici e tradizioni antichissime. È un settore che ha tutte le doti per affrontare la crisi che stiamo vivendo ed aiutarci a superarla. La Regione, come sapete, tiene moltissimo ai propri prodotti tradizionali, alle sue tipicità. E' attivato sempre una politica attenta e speciale nei confronti di un settore che oggi conta prodotti DOP, tra cui il prosciutto di Carpegna e i salamini italiani alla cacciatora. La DOP, per un prodotto alimentare, rappresenta la forma di riconoscimento più elevata. Poi, se pensiamo anche al QM, la qualità Marche, la nostra filiera regionale sui Nicola non ha colto appieno tutti i vantaggi che potevano venire dal piano di sviluppo rurale. Ci auguriamo che con il nuovo PSR si possa usufruire di più dei vantaggi dei fondi europei per la filiera sui Nicola.